Certe volte mi capita di ricevere un biglietto da visita con su scritto nome e cognome DJ Professionista Ma Non è che sia proprio una gran scelta a livello comunicativo Prima di tutto chi è professionista davvero non ha bisogno né di scriverlo né di dirlo Lo è nei fatti Poi cosa mi vuoi comunicare con questo? A cosa ti serve? Ti serve di dirmi che il DJ è la tua unica fonte di reddito? E allora cosa cambia? Non è che questo ti qualifica come un DJ migliore Un esempio Eddie Tonic fa il dentista Eppure in un certo periodo è stato ai vertici mondiali Ed anche ora si difende piuttosto bene E non è che lo rende un DJ peggiore questo Oppure c'è chi non è ricco di famiglia e non ha avuto bisogno di lavorare un giorno in vita sua E allora non fa differenza con chi ha il suo lavoro E poi contemporaneamente svolge il DJ nel migliore dei modi Anche perché oggi un DJ non è soltanto un DJ Molto spesso è anche produttore È anche label manager È anche social media manager È sicuro anche i propri eventi E quindi deve sapere fare un sacco di cose contemporaneamente L'importante è che le faccia bene E che le faccia in modo professionale Ecco la parola chiave Non importa che tu sia un professionista Cerca di essere professionale Come obiettivo di tutti i giorni Io per anni ho cercato di fare il professionista Di fare soltanto il DJ Mi sono impegnato molto Ci sono anche riuscito Ma non necessariamente questo mi ha reso migliore Mi ha fatto fare delle ottime scelte Anzi qualcuna sinceramente l'avrei anche evitata Perché ti dico questo? Perché non mi serve che tu dimostri a me o al mondo Che riesci a campare soltanto facendo il DJ Non mi interessa questo Mi interessa che tu faccia il DJ nel migliore dei modi possibili Quindi ti auguro di essere sempre professionale E ci riesci anche un ottimo professionista Fammi sapere Fammi sapere